L'Unione Sportiva Rezzo ha voluto omaggiare tre ospiti dell'Istituto Fossombroni, la storica Casa Pia, che nel corso della loro vita si sono particolarmente distinti per il loro amore per il calcio e la maglia Maranto. E sono proprio tre le maglie ufficiali della stagione appena terminata che il direttore generale Andrea Riccioli ha portato a Dino Montagni, Massimo Bianchini, meglio conosciuto come il nonno, e Giancarlo Nucci. La cerimonia di consegna delle tre maglie numero 10, ognuna personalizzata con il soprannome storico del destinatario, si è svolta nel Salone del Fossombroni alla presenza del nuovo presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto, Pier Antonio Bacci, che fa anche parte dello staff medico dell'Unione Sportiva Arezzo. Le tre maglie sono andate a Giancarlo Nucci, detto Rivera, grandissimo tifoso del Milan e dell'Arezzo, a Dino Montagni, detto Lobello, ospite della Casa Pia dal 1951, da quando aveva 13 anni. Decise nel corso della sua vita di fare anche il corso per arbitri ed è iniziata la sua carriera. E infine Massimo Bianchini, detto il nonno, è stato balestiere del quartiere di Porta Sant'Andrea, poi tamburino dei musici della giostra del Saracino per poi passare al gruppo Sbaglieratori. Tanti viaggi in giro per il mondo per esportare il nome di Arezzo e la giostra del Saracino, ma tanti anche gli aneddoti quando indossava la giacchetta nera, visto che il nonno iniziò ad arbitrare nel 73 nei campionati CSI ed ha proseguito fino al 2013, dirigendo oltre 6.000 partite, molto delle quali con l'ombrello per ripararsi dalla pioggia, arbitrando anche Arezzo Dinamo Mosca e Taranto Monopoli sotto falso nome e Arezzo Steaua Bucarest.